Traffico di droga tra il Nord Salento e il Sud America è un'organizzazione che operava tra Lecce, Brindisi e la Calabria. E' qui che la Guardia di Finanza ha arrestato a conclusione di un'indagine coordinata dalla DDA di Lecce con il procuratore Cataldo Motta, sette persone. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata all'acquisto, importazione, trasporto, detenzione, distribuzione, vendita e cessione di stupefacenti. Un'ordinanza ha raggiunto anche i fratelli Patrizio e Antonio Pellegrino, attualmente latitanti, boss indiscussi della zona del Nord Salento. Gli altri arrestati sono calabresi e c'è anche un colombiano. Tra gli episodi contestati anche la tentata corruzione nei confronti di un finanziere al porto di Brindisi per far passare cocaina per 4 milioni di euro hanno offerto 100.000 euro al militare.